e quindi anche questo campionato se n'è andato perdiamo 3 a 2 contro il Bologna e si conclude così la nostra stagione diciamo che è stata la classica partita di fine stagione però per perderla abbiamo fatto davvero di tutto di tutto ed è un peccato è un peccato perché abbiamo perso l'occasione di poter raggiungere quota 80 punti in classifica ma in generale c'è il rammarico per i vari punti persi ingenuamente in questo girone di ritorno girone di ritorno nel quale abbiamo conquistato 35 punti dopo i 44 conquistati nel girone d'andata e quindi gli errori che hanno portato a questo calo di rendimento nella seconda parte di stagione sono assolutamente da non ripetere e sono errori sia per quanto riguarda la gestione sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico tattico e sulla gestione mi riferisco all'aver smantellato il centrocampo a gennaio e all'aver mandato via come se nulla fosse il capitano e simbolo della squadra ovvero Mare Kamsik però comunque il nostro campionato è da considerarsi positivo perché siamo finiti secondi tranquillamente avanti a squadre che in estate da molti ci erano date avanti nella griglia di partenza e avanti a squadre che comunque avevano speso di più rispetto a noi sul mercato e comunque tornando sulla partita non mi è per nulla piaciuta la formazione e questa sera per me è stata l'ennesima partita persa ad Ancelotti e non è la prima volta in questo girone di ritorno che perdiamo punti a causa di formazioni azzardate schierate dal nostro allenatore ma caro mio tu mi vieni a spiegare perché mi tieni in panchina Cagliecon e Mertens e poi perché mi metti Younes seconda punta Younes è un esterno ma poi mi vai a mettere quel Verdi che non si regge in piedi Insigne poi non ne parliamo proprio anche lui non si regge in piedi però vabbè ci sta il fatto che lo vuole far giocare però almeno Mertens tu in questa partita non me lo potevi fare fuori considerando il fatto che è in un momento di forma davvero straordinario ed infatti quando è entrato nel secondo tempo è riuscito subito ad incidere ed è stato decisivo per la nostra rimonta dal 2 a 0 al 2 a 2 Ma poi anche Cagliecon, noi di Cagliecon difficilmente possiamo farne a meno soprattutto per quanto riguarda un 4-4-2 soprattutto se tu metti in campo un 4-4-2 perché se tu schieri Verdi esterno in un 4-4-2 noi non abbiamo alcuna copertura lì sulla fascia e il terzino sinistro del Bologna, Dykes, questa sera lì faceva quello che voleva era sempre solo aveva praterie lì sulla fascia ma in generale il centrocampo non c'era eravamo senza centrocampo quest'oggi però diciamo che per il fatto che è stato schierato Zielinski centrale non possiamo dire nulla perché era obbligatorio schierarlo centrale considerando la squalifica di Allan Zielinski ha fatto anche bene per quanto riguarda la fase di impostazione questa sera è stato anzi tra i migliori in campo però purtroppo non può fare la fase difensiva ma non è nemmeno colpa sua perché non è un calciatore adatto al fare la fase di difesa e comunque nei primi 25 minuti il Napoli ha giocato bene abbiamo giocato davvero molto bene abbiamo avuto il controllo del gioco abbiamo messo in mostra anche un'ottima qualità di gioco c'è stata davvero una bellissima azione con tutti i tocchi di prima tra Zielinski e Ruiz pallone che poi arriva a Verdi che ovviamente lo tira fuori e diciamo che purtroppo in questi 25 minuti non siamo riusciti a concretizzare le occasioni con Verdi e Insigne che hanno sprecato azioni su azioni tra Verdi e Insigne è difficile trovare il peggiore questa sera e poi abbiamo pagato ciò abbiamo pagato ciò il fatto di non aver concretizzato i primi 25 minuti giocati bene perché poi è uscito fuori il Bologna ed abbiamo iniziato a soffrire e proprio quando è uscito fuori il Bologna sono usciti fuori scusate il gioco di parole i limiti della formazione che è stata messa in campo cioè una formazione troppo offensiva e ripeto è inutile fare un 4-4-2 se tu come esterni nel centrocampo a 4 mischieri due esterni offensivi perché prima di tutto tu in questo modo non permette agli esterni offensivi di proporsi maggiormente in fase d'attacco ma questo è un discorso in generale non solo sulla partita di questa sera e poi ripeto Iunes seconda punta è improponibile è improponibile e comunque poi abbiamo regalato il finale di primo tempo al Bologna subendo due gol prima da Santander lì Santander veramente troppo libero colpisce il pallone di testa e segna il gol del 2-0 e poi dopo appena un minuto Gemaili segna il gol del 2-0 approfittando di una nostra palla persa ingenuamente e quindi il primo tempo finisce così 2-0 per il Bologna poi comincia il secondo tempo iniziamo ad attaccare e riusciamo a trovare il gol del 2-1 con Goulam mi fa davvero molto piacere per Goulam che quindi ha trovato il suo primo gol dopo il rientro dall'infortunio e comunque Goulam questa sera è stato tra i migliori in campo l'ho visto davvero molto bene fisicamente molto scattante ha corso molto sulla fascia ha messo tanti palloni in mezzo si è ha fatto diversi inserimenti nelle azioni d'attacco e quindi sono davvero molto contento di vedere un Goulam in ripresa e spero con tutto il cuore che nella prossima stagione rivedremo definitivamente il vero Goulam perché sappiamo che il vero Goulam è tra i migliori terzini sinistri al mondo ora peccato che dovrà andare a fare la Coppa d'Africa e che quindi non potrà fare la preparazione con il nostro Napoli e comunque qui bell'inserimento di Goulam su assist di Fabian Ruiz Goulam sottoporta tira e segna il gol del 2 a 1 poi riusciamo a trovare il gol del 2 a 2 qui bella azione bel pallone di Cagliecon in avanti per Younes Younes se la stoppa la mette in mezzo per Mertens che tira di prima e mette dentro il gol del 2 a 2 e quindi qui diciamo che si sono resi decisivi Cagliecon e Mertens che senza dubbio come già detto questa partita la dovevano giocare dal primo minuto e poi purtroppo alla fine la perdiamo dopo essere stati anche vicini al vincerla perché pochi minuti prima del gol di Santander del 3 a 2 Zielischi prende un palo clamoroso su un tiro a giro su un ottimo assist di Gaetano che è entrato a 10 minuti dalla fine e buona fortuna a Gaetano che comunque già ha fatto il suo esordio in prima squadra in Serie A nella partita di Ferrara contro la spalla e Gaetano pensate un po' abita proprio a pochi passi da casa mia e quindi gli auguro davvero il meglio ora credo che nella prossima stagione verrà mandato in prestito in Serie B e quindi poi arriva questo gol abbastanza fortunoso da parte del Bologna Santander che da terra colpisce il pallone di testa e senza nemmeno sapere come segna il gol del 3 a 2 e quindi finisce così purtroppo arriva una sconfitta una sconfitta che si poteva evitare però ci sta ci sta perché si è visto che comunque è stata la classica partita di fine stagione però ripeto la formazione è stata totalmente sbagliata e Ancelotti comunque in vista della prossima stagione deve vedere quello che deve fare cioè non deve insistere troppo con questo 4-4-2 un modulo che ripeto secondo me non si addice a quella che è la nostra rosa perché soprattutto se tu hai in rosa un gran numero di esterni offensivi è inutile il 4-4-2 perché allo stesso tempo tu poi agli esterni offensivi schierandoli come esterni in un centrocampo a 4 non gli permetti di proporsi in fase offensiva e poi c'è rischi anche in fase difensiva sei scoperto anche in fase difensiva perciò io dico che soprattutto in certe circostanze quando in campo vengono schierati un certo tipo di calciatori il 4-4-2 è un modulo totalmente inutile e che non si addice a quelle che sono le nostre caratteristiche in certi casi perciò quindi Ancelotti la prossima stagione deve assolutamente dare una definitiva identità di gioco a questa squadra e il fatto di non averla data forse ha portato ad un certo punto della stagione la squadra in confusione tattica perché abbiamo visto a partire da gennaio in poi un Napoli che a distanza anche di poche partite cambiava strategie tattiche e ovviamente non si possono cambiare strategie tattiche nel giro di pochi giorni e di poche partite e il Napoli comunque deve assolutamente giocare a calcio perché abbiamo avuto la prova che se vogliamo noi bene a calcio possiamo giocare come l'abbiamo visto nella partita contro l'Inter e quindi bisogna trovare assolutamente una precisa identità di gioco e quindi ora dei nostri calciatori qualcuno andrà in vacanza altri si andranno a giocare Coppa America e Coppa d'Africa e poi il 9 luglio si riprenderà Di Maro si comincerà il ritiro di Di Maro non ci saranno purtroppo i calciatori che prenderanno parte a Coppa d'Africa e Coppa d'Asia e speriamo che comunque questi qui si liberino il prima possibile dai loro impegni con le nazionali e io a meno di clamorose sorprese anche quest'anno come ogni anno seguirò il nostro Napoli a Di Maro e quindi che dire ragazzi questo è l'ultima partita di questa stagione l'ultimo post partita di questa stagione del Napoli e comunque quest'estate bisognerà programmare bene la situazione mi aspetto un mercato importante bisogna fare un mercato davvero importante un mercato importante voglio delle garanzie da parte della società voglio avere la prova che la nostra società ha delle ambizioni serie e comunque la prossima stagione dobbiamo assolutamente vedere di portare a casa un trofeo che sia anche la Coppa Italia dobbiamo come minimo superare il girone in Champions League e perché no cercare anche di arrivare ai quarti di finale traguardo mai raggiunto nella nostra storia e poi per quanto riguarda il campionato ovviamente il primo obiettivo deve essere quello di assicurarsi il posto Champions senza patemi d'animo e poi se si può fare quel qualcosa in più si vedrà ovviamente molto dipenderà dal mercato che verrà fatto e da come verrà gestita la squadra anche dal punto di vista tecnico-tattico e quindi ragazzi detto questo io vi saluto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli a presto